Una nuova strada per le aree interne. Questo è il titolo della prima agora democratica della provincia di Caltanissetta che si è tenuta lo scorso 19 dicembre presso l'istituto Testa Secca di Caltanissetta. L'evento rientra nel ciclo di incontri che il partito nazionale ha avviato da qualche settimana in tutta Italia ed è aperto alla partecipazione del mondo associativo, dei sindacati, delle imprese e di chiunque, sottolineano i vertici DEM, voglia contribuire con le proprie idee alla costruzione di un futuro diverso per l'Italia e per la Sicilia. A Caltanissetta si è parlato soprattutto di aree interne a pochi giorni dalla classifica del Sole 24 Ore che ha ulteriormente certificato i profondi divari territoriali che caratterizzano il paese. Ieri intanto è stata una straordinaria opportunità che ha preso in pieno quella che sono le agora, cioè quella di aprirsi al mondo dell'associazionismo, dell'imprenditoria, dell'ambientalismo. Quello che abbiamo stabilito è un concetto semplice che da domani noi lancieremo un documento che speriamo possa diventare un documento regionale in cui rimettiamo dentro quella che per noi è la questione delle questioni, la questione meridionale. E su questo anche ieri ho ribadito nel mio intervento che questa provincia, ma in particolare Gela, è il simbolo della questione meridionale, della industrializzazione tradita, di un turismo mancato, della voglia di una città e di un territorio chiaramente, di avere una visione che guardi al suo futuro. Nelle prossime settimane la Gora del PD sbarcherà anche in città e potrebbe registrare la presenza dell'ex ministro Giuseppe Provenzano, uno dei papabili nomi DEM per la presidenza della regione. L'obiettivo è quello di affrontare la fase delicata che Gela sta vivendo attualmente. A gennaio attraverso i nostri riferimenti regionali, nazionali, di governo faremo un'iniziativa che possa coinvolgere appunto questa fase, perché è una fase delicata per questa città, è una fase delicata perché la transizione industriale è parziale, è una fase delicata perché c'è una nuova questione ambientale, è una fase delicata perché dal nostro punto di vista c'è anche una nuova questione morale, è una fase delicata in cui un grande partito di sinistra deve sapere interpretare questi disagi e deve sapere che indirizzo diamo quale strada deve percorrere questa città. Bisogna avere una visione, non possiamo andare a vista. L'impressione che noi abbiamo è che oggi il governo della città naviga a vista. Tra gli argomenti previsti per la Gora di Gela è anche l'andamento dell'emergenza pandemia e la questione sanità con le sue endemiche criticità. Abbiamo fatto un intervento chiaro, netto, noi riteniamo che la struttura sanitaria del Vittorio Emanuele stia in questo momento in una crisi drammatica, abbiamo condiviso un report con la stampa dimostrando che negli ultimi cinque anni il nostro ospedale ha avuto un grollo verticale. Io invito l'assessore Razza e gli esponenti dell'ASP a farsi un giro in una stenderia che oggi è il cuore della struttura sanitaria e capiranno la drammaticità che sta vivendo la nostra struttura. Io vorrei dire che oggi medicina è chiusa, i pazienti è aperta per il Covid ma è chiusa come medicina generale. Abbiamo una situazione nei reparti che è drammatica, c'è una mancanza di personale e di strutture, di infrastrutture sanitarie che è notevole. Io penso che il diritto alla salute sia un diritto di tutti, è un diritto che va garantito. Negli ultimi cinque anni è oggettivo che noi abbiamo una struttura sanitaria che non riesce a garantire per responsabilità politiche un diritto sanitario compiuto.